Qual è la chiave del nuovo rinascimento nel 2024? Il 2024 si presenta come un anno effettivamente molto complesso, per cui la chiave in assoluto è sicuramente la passione, però avrei una seconda chiave che è quella della curiosità e poi l'ultima chiave che è quella della resilienza. E quindi voglio dire, tutti questi tre valori assieme formano un'unica chiave che serve per riuscire sempre a, così, a non perdere mai di vista quelli che sono i nostri obiettivi.